signora c'ha una sigaretta? no dove va? ma non ti vergogna a chiedere sigaretta a te se ne importa ma chi sei? come ti permetti? ma come ti permetti? eh? che sei drogato? io non so drogato tu me sa non c'è una prezzetta che c'era quella che è drogata? eh andate 118! sono un passino 18! sono un passino 18 sotto il porticato di teramo